La Capitale Europea della Cultura è un'iniziativa della Commissione Europea, lanciata per la prima volta nel 1985, il cui scopo è valorizzare le differenze culturali, ma anche enfatizzare le radici comuni del vecchio continente, usando la cultura come strumento di sviluppo del territorio. Nel 2019, la Capitale Europea della Cultura per l'Italia è la città di Matera, vincitrice tra oltre 20 candidate, che ha saputo stupire per l'unicità del suo progetto, basato non sulla bellezza dei sassi, ma sulla capacità dei suoi cittadini di mettersi in gioco anima e corpo per dare un volto nuovo alla città più antica d'Europa. Grazie agli 85 milioni di euro di fondi europei investiti nello sviluppo della città, dal 2014 a oggi Matera ha visto un incremento del turismo da 200 a 700.000 presenze annue, confermando la tendenza di grande sviluppo economico già vista in tutte le altre capitali. L'Italia avrà la sua prossima capitale nel 2033 e fino ad allora l'esempio di Matera verrà sicuramente ricordato come una delle storie più brillanti di tutto il nostro paese.